Nell'ambito dei cambiamenti nelle tempistiche della moda, quanto e cosa può fare il sistema attuale per ridurre lo scarto tra il momento in cui il prodotto è proposto e quello in cui effettivamente arriva al consumatore? Diciamo che ci sono due famiglie di strategie, c'è una strategia che punta a costruire dello stock di prodotto pronto e c'è invece una famiglia di strategie che punta a rendere più rapida e agile la produzione. La prima famiglia è una famiglia di strategie che è ovviamente molto pericolosa perché l'alta variabilità della domanda impone di avere degli stock molto piccoli, mentre invece la seconda famiglia di strategie si ottiene sostanzialmente attraverso un maggior coordinamento tra le varie componenti della filiera di produzione. Noi sappiamo che la filiera moda è una filiera molto frammentata sia nell'abbigliamento che nelle calzature e quindi l'impresa che è sul mercato e che quindi vede la domanda dei consumatori ha in qualche modo l'onere di rendere questa filiera il più agile possibile. Quindi maggiori sistemi di comunicazione, maggiore coordinamento nei processi creativi, maggiore capacità di costruire delle strategie che sono il più possibile delle strategie miste, quindi di approvvigionamento, quindi non soltanto delocalizzazione verso paesi lontani né necessariamente produzione prossima al mercato, ma una strategia che ovviamente compone il sourcing in maniera relativa e in relazione appunto al tipo di prodotto che va ad offrire al mercato.